Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala, anche oggi mercoledì e fino venerdì deboli piogge sul centro levante per un flusso umido da sud ovest, altrove nuvolosità variabile mentre il fine settimana si preannuncia l'insegna del sole. Il dettaglio oggi mercoledì 8 marzo sul centro levante deboli piogge diffuse, nuvolosità variabile sul resto della regione con locali addensamenti serali a Ponente, venti moderati da sud ovest sul centro levante, forti sui crinali e i capi esposti, mare tra molto mosso e localmente agitato, temperature massime complessivamente stazionarie, lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 12 e 15 gradi. Domani giovedì 9 marzo deboli piogge diffuse sul centro levante nel corso della giornata con possibili intensificazioni nella notte, nuvolosità variabile sul resto della regione, venti meridionali deboli o moderati sul centro levante, deboli altrove, mare molto mosso, localmente agitato la mattina sul levante, temperature in aumento, minime lungo la costa tra 11 e 14 gradi nelle zone interne tra 3 e 9 gradi, massime lungo la costa tra 16 e 18 gradi nelle zone interne tra 13 e 17 gradi. Dopodomani venerdì 10 marzo deboli piogge alla mattina sul centro levante in esaurimento dal primo pomeriggio, sul ponente nuvolosità variabile nella prima parte della giornata, soleggiato dal pomeriggio, venti meridionali forti sull'estremo ponente, deboli altrove, mare molto mosso e un aumento localmente agitato in serata levante, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 12 e 14 gradi nelle zone interne tra 3 e 9 gradi, massime in lieve aumento lungo la costa tra 16 e 19 gradi nelle zone interne tra 15 e 18 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!